Continuano le operazioni di ricerca degli oltre 60 dispersi del naufragio di lunedì di una barca a vela che trasportava migranti a circa 120 miglia dalle coste calabresi. Dopo il ritrovamento di sei corpi senza vita a martedì, nella prima serata di mercoledì il mare ha restituito un'altra vittima. Dopo lo sbarco nel porto di Roccella Ionica, le salme sono state trasportate nell'obitorio dell'ospedale di Locri, dove sono iniziati i primi accertamenti del medico legale e quelli finalizzati alla successiva identificazione. Sono invece 12 i migranti ancora in vita tratti in salvo quando l'imbarcazione ha iniziato ad affondare. Le operazioni di ricerca proseguono anche con il sorvolo di mezzi aerei coordinati dal Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Reggio Calabria.